Verrà effettuata domani l'autopsia sul corpo di Mauro Angelini, atleta e insegnante di educazione fisica in pensione che migliaia di fanesi ricordano sin dagli anni delle scuole. Sabato pomeriggio si trovava nella pista Zengarini a Fano per preparare la sua partecipazione ai campionati Indoor Master di Ancona, essendo campione italiano dei 60 mitri ostacoli, quando al termine dell'allenamento si è seduto e poi si è improvvisamente accasciato al suolo e non si è più ripreso. Vani i tentativi dei soccorsi che sono stati prestati sia da chi si trovava sul posto che dal personale del 118, intervenuto dopo pochi minuti e dai medici al pronto soccorso dell'ospedale Santa Croce. E' morto stroncato da un infarto Angelini, 69 anni, più volte campione italiano non solo nel salto in alto ma anche negli ostacoli e nel decathlon. Una grande persona, scrive l'amico Renzo Capecchi, un meraviglioso insegnante, uno stupendo allenatore, un magistrale atleta con cui da 45 anni condividevo questa smodata passione per l'atletica leggera. Se ne è andato sulla pista a fine allenamento, si è accasciato sul traguardo generale stroncato da un infarto devastante. Ero lì, scrive Stefania, purtroppo ho visto tutto ma non pensavo che non ce l'avesse fatta. E' stato un momento veramente brutto. Ho assistito agli operatori mentre tentavano di rianimarlo. Sono affranta, non lo conoscevo di persona, ma tante volte ci siamo incrociati in pista. A nome del gruppo fanno correre, mi sento di esprimere sentite condolianze. Mentre Giovanna dice, per noi colleghi di educazione fisica è sempre stato un punto di riferimento, simpatico e sempre ironico. Un grosso abbraccio alla moglie, ai figli e a tutti i master. Un saluto speciale a Mauro che anche lassù farà il suo gruppo sportivo. Giuseppe Ottaviani, cento anni a maggio e pluricampione mondiale, lo ricorda invece come allenatore e scopritore di talenti. Quando venne nei vostri studi lo scorso aprile per un'intervista, ci ricorda, Mauro non poteva esserci perché è impegnato a fare il nonno. Ora a noi rimane il ricordo del suo buon umore, della sua ironia, oltre ad un vuoto incolmabile. Angelini per me è stato un insegnante, un maestro. Io posso dire che senza di lui non avrei fatto quell'esplorazione nell'atletica che ho fatto. Perché è lui che mi ha indicato a fare questo perché tu hai le proprietà. Insomma è stato lui lo scopritore, diciamo, di me. E ricordo che era un bravissimo uomo, gentile e sempre pronto agli insegnamenti. E rimane la mancanza perché c'eravamo appuntamento in Ancona da sabato scorso, da domenica, così da ieri. Lui a Fano era un po' il simbolo del campo di atletica. Senza di lui io devo andare adesso col tempo buono, ma mi sembra non sia più l'atmosfera degli allenamenti che c'era quando c'era lui. Perché lui era presente in ogni momento quando aveva bisogno.